A Milano la polizia ha arrestato un guineano 21enne ospite di un centro di accoglienza straordinaria. È stato trovato in possesso di 500 grammi di hashish già divisi in dosi, pronta allo spaccio che avveniva in via Padova di cui molte volte Riccardo Decorato, ex vice sindaco di Milano e assessore alla sicurezza all'immigrazione alla polizia locale di regione Lombardia, si era occupato in passato. Questa volta però a destare preoccupazione non è tanto il luogo di spaccio, ha fatto sapere lo stesso assessore, ma quello dove la droga veniva nascosta e depositata in attesa della vendita, incredibilmente proprio il CAS dove lo straniero era ospitato. Per questo Decorato si chiede come sia possibile che una struttura del genere possa essere utilizzata come base operativa per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non c'è nessuno a controllare, come si fa a sapere chi esce e chi entra dai centri di accoglienza se non vengono presidiati da chi dovrebbe occuparsi della sicurezza interna? In questo momento teme che la situazione nei centri di accoglienza sia fuori controllo. Questo è solo l'ultimo degli episodi che coinvolgono ospiti del centro d'accoglienza straordinaria, per questo ci si chiede come sia possibile sapere se in questi centri non trovino alloggio anche persone come queste. Occorre che il sindaco e le altre autorità preposte, ha aggiunto l'assessore, dispongano di un rafforzamento dei controlli per sapere esattamente chi vive nei centri d'accoglienza e che cosa fa quando esce. Sono più di 3.000 gli ospiti stranieri nei CAS di Milano. Si vuole davvero dare l'idea che possano nascondere la droga all'interno delle strutture, restando impuniti? Almeno si utilizzi la polizia locale per registrare le presenze e le assenze con controlli a sorpresa, monitorando le attività svolte all'esterno e attenzionando gli elementi che destano maggiori sospetti. Ora decorato spera almeno che questo ospite sgradito possa essere immediatamente espulso dal nostro paese, come prevedono le nuove norme in materia di sicurezza e migrazione.